è già mezz'ora che falleggia ma l'hai ridicato se ti metto lì ma l'ha fatto levare patacca c'è la paura che lo casciavano io vada patacca finché si scarica la batteria c'è un'altra 1 ora e 28 minuti sarà qua la fossetta che c'è un capocio vada più avanti vieni qui non fate ride però vada qualche arsola vada è fuoca fuoca vada ora ti metto l'annuncio a zomarino che gli è morta una fuoca mi serve una fuoca ce l'ho io vada già siamo a minuto e quindici c'è un altro un minuto vabbè ma già era partito prima però eh lo so no ah stop vada per cazzo